controllo qui viaggia bene vedo ok vado vedete che non l'intendo? se fa come ti fa ora vado vado a fare un po' di volato mi stava tagliando l'aria? veniva giro a tutto il bar qui dopo l'ioca la città forse provo a fare qualcosa forse ma è un po' fauna non provare mi rilasco ancora la parola lui ce l'ha messo e poi la parola si può fare un'impennata? cosa vuol dire? vi oltre fanno voi dimmi via e io ti dai 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 oh